... ci sono i tassi ripeti che cos'è che ha il capo a casa ? ha la ruota eh.... perchè è un cricetto ahha grande transgenico e da piccolo è diventato grande cosa gli regaliamo noi al capo? al capo gli regaliamo una ruota d'oro piccola che bagnarla non costa un cazzo dicendogli che è o un prodotto tipico italiano un simbolo italiano oppure che la ruota del karma buddista di buon augurio per il suo ufficio così ogni volta che lui è orgoglioso la mostrerà a tutti questo è un premio in regalo dei miei insegnanti noi invece rideremo come dei pazzi qualsiasi cosa lui farà saremo sempre contenti di averglielo messo e di vedere la sua faccia orgogliosa da cricetto è sufficiente guarda tutti gli alberi illuminati dove cazzo c'è l'ho qua? alla scuola se vuoi sembra non ci gioca faccia un po' non ci gioca faccia non ci gioca 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 voglio non ci gioca